L'ecomuseo è un luogo di comunità avente la forma di musei permanenti miranti a studiare, conservare e promuovere l'identità collettiva, il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale. Così il consigliere del PD, Piero Lagorazza, ha introdotto in quarta commissione consigliare la proposta di legge di sua iniziativa, Ecomusei, case di comunità. La tutela del territorio da parte delle singole comunità, insieme alla valorizzazione della specificità locale, ha spiegato Lagorazza, costituiscono i tratti fondativi del progetto normativo, che è teso a creare le condizioni per un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio. La proposta di legge, ha sottolineato l'esponente del PD, mira a creare una rete locale di esperienze di cittadinanza attiva, per sensibilizzare alla lettura del valore del paesaggio le popolazioni che vi abitano e per innescare processi di cooperazione e scampio all'interno delle stesse comunità, con particolare attenzione al mondo della scuola e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro.